Ho dedicato un editoriale alla storia di Francesca. Com'è la storia di Francesca? Francesca viene da me a un gruppo e mi dice Ah dottore, sapessa, io con gli uomini sono sempre condiscendente e nella mia vita mi sono fatto un progetto. Se a rientro dalle vacanze avete un progetto, toglietelo dalla mente perché i progetti stancano l'anima. L'anima da sola basta dirgli una volta io desidero questo e l'anima ci pensa più continuare a pensare al progetto di realizzare stanca l'anima la rende fragile, paurosa. Beh Francesca mi diceva io con gli uomini sono sempre condiscendente ogni volta che inizio una nuova storia d'amore io divento la geisha. Lui mi dice Amore andiamo al ristorante cinese stasera? E io detesto il ristorante cinese eppure gli dicono certo tesoro, volentieri. Oppure lui mi dice andiamo a vedere questo film io magari l'ho già visto, anzi l'ho già visto ma io non oso dirgli che non l'ho visto e divento la geisha che dice sì sì andiamo a rivederlo volentieri e così va avanti per un po' di tempo in questo modo a condiscendente e servizievole salvo che dopo un po' questo periodo in cui lei si sente un tappetino improvvisamente ha una reazione furiosa quello con cui lei stava non si aspetta una reazione così furiosa perché era sempre vista a condiscendente e lite furiosa il rapporto finisce allora uno psicanalista da cui lei andava le diceva lei fa così perché il rapporto con suo padre che era un uomo gelido lei cercava di conquistarlo diventando servizievole coccolosa salvo però poi rompersi di questo modo di essere e aveva delle reazioni furiose anche col papà quindi con gli uomini secondo la psicanalista da cui andava la mia paziente lei non faceva intanto che ripetere il rapporto che aveva col padre ma voi sapete leggendo Rizza che tutta la scuola di Rizza è contrarissima a questo modo di vedere le cose se dentro di me compare la geisha significa che la geisha ha qualcosa di me che vuole esprimere Francesca è una donna molto razionale molto indipendente molto autonoma cambia atteggiamento soltanto quando diventa geisha anche a letto come geisha fa cose che altrimenti non fa e soprattutto si lascia andare e prova piacere come altrimenti non le accade se volete ricaricare il cervello dovete permettere alla geisha che c'è in voi se c'è se emerge di accoglierla come accogliere il lato furibondo perché il lato furibondo? perché si vede che evidentemente quell'amore a un certo punto della vita di Francesca non le serviva più trattare la geisha che arriva trattare la donna furibonda come energie che arrivano dentro di noi il tema non è ricollegare dal papà se ci ha amato o no questo stanca l'anima non fa ricaricare il cervello di energia ma dire adesso io sono la geisha il resto si vedrà adesso sono una donna furibonda il resto si vedrà ecco io nell'editoriale entro nel merito a lungo su come affrontare le cose di noi che non ci piacciono e con le quali intratteniamo una continua lotta noi lottiamo contro ciò che non ci piace di noi e non sappiamo che così facendo cronicizziamo quello che di noi non ci va bene dobbiamo accettare quello di noi che ci va bene come un alleato come un compagno di viaggio grazie a tutti